capitolo 12 una scatola a forma di cuore non ci casco e non mi diverto un qualunque hacker da quattro soldi può attivare la telecamera o il mio microfono dal tablet e dal telefono ascoltare quello che dico vedere le cose che combino l'hanno fatto già nella prima stagione della casa di carta e non mi ero stupita neanche allora che andavo ancora tipo alle medie quindi caro schia se vuoi far colpo su di me è meglio che ti inventi qualcosa di meglio la scatola dei pennelli di mia nonna me la cerco da sola grazie lo stesso se poi vuoi anche spiarmi mentre faccio le mie cose non sto certo a darti del pervertito ognuno i suoi hobby per carità ho un cugino che colleziona cimici verdi è presente quegli animaletti puzzoni che trovi in casa non so se sia peggio che spiare una ragazza ma è un hobby e lo dico anche ad alta voce giusto per essere chiari così se schiacqua mi sente non ha dubbi sono anni che ricerco quei pennelli la nonna li teneva in una scatola di cioccolatini a forma di cuore rossa e coi pennelli c'era una sua foto da ragazza bellissima un braccialetto forse d'argento una cartolina dalle hawai due miei denti da latte ognuno di noi ha un tesoro da ritrovare in un'isola lontana mi arriva un messaggio e di mia mamma che mi dice due cose che hanno deciso che non si deve più uscire di casa se non per cose di assoluta urgenza tipo buh e che questa sera lei e papà vengono a casa e ceniamo insieme finalmente era ora quasi quasi mi stavo convincendo che si fossero rifatti una vita da qualche parte migliore che qua poco ma sicuro e che l'ospedale fosse tutta una scusa dunque non posso più uscire beh questo poi vediamo ne parliamo con calma adesso devo finire il mio corvo è la cosa che mi interessa di più in assoluto al momento quando disegni disegni come dice bob nothing matters però poi cambio idea lascio il telefono in carica e esco dall'appartamento salgo una rampa di scale apro una piccola porta di metallo e sono nel sottotetto un po di luce filtra da un lucernario lurido così riesco a evitare le ragnatele arrivo una scatoletta di legno mezza marcia salgo qualche gradino apro una botola che non è troppo pesante lo ammetto e sbuco sul tetto di casa casa nostra ha il tetto piatto e in un angolo c'è una specie di torretta alta 4 o 5 metri dove hanno messo le antenne della televisione su una delle pareti della torretta c'è attaccato una scala di metallo di quelle che nei film ti fanno venire le vertigini mi aggrappo ai pioli e salgo su senza guardare in basso questa è la regola perché lo sanno tutti che se guardi in basso prima poi cadi la scaletta sta proprio su uno dei lati così basta perdere un attimo l'equilibrio per finire laggiù spalmato sul marciapiede senza neanche il tempo di pensare a quanto sei stato idiota a morire così o a dire durante il volo fin qui tutto bene credo che l'abbiano messa lì per evitare che a un qualsiasi ragazzino venisse voglia di salire solo che non sono un qualsiasi ragazzino io ecco fatto sono sul tetto del tetto accanto a me varie antenne alcune preistoriche le potremmo donare al museo egizio che abbiamo visitato in gita l'anno scorso quando ancora si facevano le gite scolastiche sono sola finalmente ero sola anche sotto certo ma qui sono sola e ho tutto il cielo sopra di me ho poco più di due metri quadri a mia disposizione eppure ci sto bene ci vengo quando ho bisogno di pensare o se voglio leggere senza essere disturbata manco da un po in effetti però che silenzio che c'è le strade sono lontane e vuote a parte un'ambulanza qui sono in pace per davvero e finalmente penso alle cose perdute che è uno dei miei pensieri preferiti da sempre ci sono due tipi di cose perdute quelle perdute per sempre come i miei amatissimi occhialini da piscina cobras white mirror dimenticati su uno scoglio al mare e immediatamente rubati da una sconosciuta che ti possa pungere una medusa dove dico io e quelle perdute ma che sai che sono ancora lì da qualche parte queste mi stanno più simpatiche anche se mi fanno impazzire so che ci sono ma non so dove sono fantasmi di oggetti che se la ridono per giorni per anni mentre li cerco perduta per sempre la nonna perduti ma non per sempre i pennelli della nonna perduto per sempre questo mio tempo che sarò obbligata a stare in casa perduta ma non per sempre la mia voglia di fare cose impossibili di vedere tutto quello che c'è da vedere di volare via adesso no però improvvisamente mi sento troppo sola lo so non sono mai stata coerente salgo sul tetto per sentirmi sola poi mi lamento che mi sento sola però è così metto la mano in tasca e prendo un sacchettino con tre biscotti lo apro e poi li poso per terra sono pelle rondini di solito passano di qui e sono stanche invidio il loro volo il loro istinto che le fa volare ininterrottamente per mesi e mesi dall'africa a casa mia ma sono anche per i corvi che qui non ho mai visto ma che se mi conoscessero saremmo senza dubbi amici e per me che stasera rivedo i miei genitori e mi viene da piangere tanto sono felice mi viene da piangere ma in realtà ho bisogno di grattarmi di nuovo la schiena e maledizione ho dimenticato il righello giù provo a fare come gli orsi che si strofinano contro un albero io lo faccio contro un'antenna semmai mi vede qualcuno mi butto giù per la vergogna mi dà sollievo ma c'è qui accanto a me la paura che stia arrivando il male succede sempre e se arrivava mentre scendevo la scaletta non respiro aspetto ma il male non si fa vivo strano è sempre stato puntuale aspetto ancora no sto bene allora guardo per un po questa città che ho perso ma non per sempre questa città fantasma che ora non posso più vivere c'è ma non c'è quando decido di scendere arrivata al bordo di questa torretta scopro che la scaletta non c'è più giuro e non ho idea di come sia possibile però forse sto sognando no ci sono solo dei segni sul muro e niente più scaletta guardo giù da due lati l'abisso dalle altre due un salto di qualche metro e così vado a trovare direttamente i miei all'ospedale mi sento una tigre in gabbia che è una sensazione che conosco bene ma così in gabbia è novità la gabbia più alta della città sono una ragazza scema in gabbia che ha lasciato il telefono in un cassetto adesso sono anch'io una cosa perduta per sempre o no chissà davvero mi sono cacciato in un guaio del genere davvero mi devo complicare la vita così giuro che se torno in camera viva non esco più fino a che non succeda qualcosa di assoluta urgenza poi succede una cosa meravigliosa arriva in volo un corvo nero splendido si ferma su un'antenna un metro da me mi guarda negli occhi ho i brevidi dappertutto raccolgo un biscotto lo sbriciolo glielo porgo lo mangia dalla mia mano non ha paura che dici corvo salto giù